Taranto, un mare di sostenibilità, bella iniziativa dell'ITIS Pacinotti in merito al Festival della Sostenibilità 2020, presente anche l'amministrazione comunale con Paolo Castronovi, ben trovato su Chifra TV. L'apporto dell'amministrazione comunale ovviamente non viene mai a mancare. No, in questo caso assolutamente no, perché questa iniziativa si inquadra nella tappa tarantina del Festival della Sostenibilità, che avrà il suo apice il 30 settembre e l'1 di ottobre al Teatro Fusco. È un'iniziativa che ovviamente sosteniamo perché il tema della sostenibilità ormai per il Comune e per l'amministrazione Melucci, su indicazioni del Sindaco, è un tema centrale all'interno dell'azione amministrativa quotidiana. Abbiamo un accordo stretto con ASVIS che ci aiuterà anche a monitorare le azioni dell'amministrazione, per cui non poteva mancare in un evento del genere il supporto dell'amministrazione. Un evento che ha tre tappe, la prima quella di oggi, che ho visto protagonista Elena Cadel, ricercatrice della Fondazione Barilla CNF, è importante il suo contributo all'interno della manifestazione? Importantissimo, un po' come quello che abbiamo letto nel libro di Giovannini, che è il portavoce dell'ASVIS, ci mette di fronte a dei dati che sono incontrovertibili e che ci rendono la nuda e cruda realtà e quindi ci stimolano a dover agire subito per poter fare in modo che, come diceva la dottoressa, nel 2050 non servano sei pianeti per poter gestire le attività quotidiane. L'impegno dell'amministrazione comunale affinché Taranto diventi al 100% una città sostenibile? Noi stiamo elaborando una serie di iniziative all'interno anche del prossimo bilancio. Ad esempio la cosa più evidente sarà la possibilità di vedere all'interno delle voci di bilancio i 17 gol dell'agenda 2030 e come la voce di bilancio contribuisce a raggiungere quegli obiettivi. Con ASVIS oramai il rapporto è costante, stiamo elaborando una matrice ideata dal comitato scientifico di ASVIS che ci aiuterà a valutare le azioni che mette in campo l'amministrazione anche da un punto di vista statistico. Grazie a tutti.